Vi è mai capitato di non avere voglia di stare nei fornelli? Di avere comunque voglia di fare un dolce ma di non usare nei fornelli né tanto meno il forno? Tommy the Cooker ha la soluzione per voi. Oggi vi preparo dei tartuffini. Quali sono gli ingredienti che mi occorreranno per fare i tartuffini? Del mascarpone, dello zucchero, del cioccolato fondente in scadlie, dei savoiardi e della polvere di cocco. Per prima cosa mettiamo dentro un sacchetto i savoiardi e con un matarello andiamo a romperli però non deve essere una sabbia fine deve essere una sabbia grezza. I savoiardi devono essere ridotti più o meno così. Andiamo ad ammorbidire un pochino il mascarpone e una volta ammorbidito aggiungiamo lo zucchero e rimescoliamo. Una volta che ho mescolato il mascarpone e lo zucchero questo è il risultato e ora trasferisco questo composto grezzo in un'altra ciotola. È arrivato il momento di aggiungere i nostri savoiardi ridotti in polvere e rimescolare. A questo punto mettiamo il cioccolato che ho precedentemente ridotto in scaglie. Lo aggiungiamo. Dopo aver creato questo composto grezzo è arrivato il momento di fare delle palline. Una volta fate le palline le ricopriremo con della polvere di cocco. Se non vi piace la polvere di cocco potete sostituirla con della polvere di cacao. Questi vanno un'oretta in frigorifero. Questo è il risultato finale. Buon appetito e vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale Tommy and the Cooker. Ciao! Ciao! Ciao!